«Sappiamo che la libertà vincerà, sappiamo che la Russia perderà e sappiamo che la nostra vittoria cambierà il mondo, grazie Gran Bretagna per essere stati al nostro fianco dal primo giorno», lo ha detto tra gli applausi il presidente ucraino Zelensky al Parlamento britannico, riunito al gran completo nella storica Westminster Hall. A Londra Zelensky ha anche incontrato il premier Rishi Sunak, che ha ringraziato per la decisione di inviare in Ucraina 14 car armati da combattimento Challenger.